buongiorno amici buona domenica madonna della divina misericordia oggi buona giornata a tutti buona domenica qui come vedete una bellissima bellissima giornata allora l'altro ieri ho postato un video che riguardava una gelateria che faceva l'inaugurazione e tutto quanto facevano alla fine per la gelata gratis perché era il primo giorno di inaugurazione la gelateria romana si chiamava no allora uno è andata un amico mi aveva scritto avrei scritto e vanno tutto quanto a spese vendotte e mi ha fatto ricordare questo termine che da tanto tempo qui mi trova via garibaldi all'inizio vedete via garibaldi è la strada il corso di negozi più lungo d'europa sono a piazza castello bellissima giornata fontana aperta tantissima gente c'è sempre qualcuno qualche artista di strada allora io ricevo una cosa ma qualche anno fa a sant'agato ho organizzato il go talent sant'agatese se vi ricordate no l'abbiamo fatto per due tre anni quest'anno sa che non venisse la fe visto la trasmissione di nec che parla di artisti di strada dalla strada al palco i facessi artisti di strada dalla strada alla piazza resandata e organizzerei un una serata in agosto in piazza dove raccoglierei dei artisti di strada gendo guaglione foggia resandata ruider delle cito quello e quell'altro per fare una cosa leggera assandata che le dite una bella idea ma bisogna vedere bisogna organizzarsi molto prima e sempre se il nostro sindaco sarà d'accordo intanto vi saluto vi auguro una buona domenica e ricordiamoci che oggi è la madonna divina della misericordia ciao a tutti amici buona giornata da da torino ma tra qualche giorno ci vediamo a sant'agata ciao